Spiragli È un disco molto importante perché segna l'inizio della mia carriera Contiene i quattro singoli che sono stati pubblicati finora che sono Roma, Oblio, Meteoropatia e Valza Le Champs-Élysées e contiene tre nuove tracce inedite che sono Insonnia, Semina e Luce e anche una versione esclusiva di Oblio solamente accompagnata dal pianoforte È un disco che per me è importantissimo perché segna non solo il mio esordio come artista è un prodotto finito che mi dà molta gioia ma anche per il suo significato Spiragli infatti sono spiragli di luce che vogliono significare le diverse gradazioni di luminosità che la mia vita e la vita delle persone che mi stanno attorno e che osservo e che cerco di comprendere giorno per giorno hanno assunto nel corso degli ultimi anni e spero sia solamente l'inizio di una carriera che mi porterà tante gioie Un saluto a tutti quanti e speriamo di sentirci presto Grazie a tutti! Grazie a tutti!